Condimento veloce per l'insalata. Mettiamo all'interno del barattolino un pochino di sale, del succo di limone, all'incirca metà limone, aggiungiamo olio d'oliva, in doppia quantità rispetto al limone, una punta di sciroppo d'acero, una macinata di pepe e una punta di cucchiaino di senato. Chiudiamo, mescoliamo il tutto, in questo modo si incorporeranno bene, si misceleranno tutti gli ingredienti. Possiamo conservare la quantità che ci esagera per un'altra preparazione in frigorifero. A questo punto vado a condire la mia insalata, composta in questo caso da finocchio, finocchietto, cipolla rossa, arance di sicilia e pinoli. Ecco qua, ottimo, gustoso, sano. Grazie. Grazie. Grazie.